La regina 2017 è Chiara Arcangeli! Eccola! Chi arriva a ricevere l'applauso dei suoi subiti ed il premio che verrà consegnato in coppia dalla vice sindaca sessuale allo sport Massimo Tonelli e dal presidente regionale Fibolo Abruzzo Fabio Di Camillo! Il gioco dei troni l'ha vinto lei, lo scendro della regina! Eccola la musica regale! Che l'accompagna a prendere il giusto tributo da parte dei suoi subiti è il regno di Chiara Arcangeli! E lei la regina 2017! L'applauso! Grazie!